Sono gli studenti i protagonisti dell'iniziativa promossa dal Comune dedicata al ricordo delle vittime innocenti di Camorra, 100 passi per il 21 marzo per celebrare una giornata in vigore da 24 anni e riconosciuta con legge dello Stato nel 2017. Questa mattina nella sala giunta di Palazzo San Giacomo alla presenza delle scuole c'erano il sindaco Luigi De Magistris, gli assessori ai giovani e alla scuola Alessandra Clemente e Anna Maria Palmieri, il referente di Libera in Campania Fabio Giuliani, rappresentanti di Forze dell'Ordine, delle associazioni impegnate contro le mafie ed i familiari delle vittime innocenti che hanno portato la loro testimonianza. Tanti studenti della nostra città che quotidianamente sono impegnati in progetti che durano tutto l'anno, fatti di senso critico, consapevolezza, informazione, denuncia, impegno. Questa giornata nasce affinché ci sia un abbraccio in Italia e nelle città italiane, un abbraccio ai tanti familiari di persone che hanno visto la loro vita spezzata in modo drammatico dalla violenza criminale armata che c'è nelle città per i progetti criminali delle organizzazioni mafiose, camorristiche e dranghetiste. Il 21 marzo è da due anni, grazie al Parlamento italiano e all'impegno dei familiari legge dello Stato. È una giornata quindi nazionale come la giornata del 2 giugno, la festa della Repubblica o il 25 aprile, la giornata della liberazione. Abbiamo quindi il dovere come comuni, come amministrazioni di promuovere dei momenti per informare la cittadinanza di questa giornata che non appartiene più soltanto ad una comunità ma è giusto che debba appartenere a tutti perché soltanto si appartiene a tutti il progetto di riscatto e di sconfitta delle organizzazioni mafiose, allora noi possiamo avere la certezza di conseguire pagine della nostra città dove non accada ad altri ciò che è accaduto alle nostre famiglie e a queste storie. I cento passi verso ogni forma di liberazione, da ogni forma di violenza, quindi ricordare le vittime per impegnarci tutti in questo processo di liberazione da ogni forma di violenza, di crimine organizzato e soprattutto delle mafie, soprattutto di quelle mafie insidiose che si infilano con raffinatezza dentro alla politica e dentro alle istituzioni. Questa città è schierata, io sono schierato, noi siamo schierati apertamente, abbiamo liberato questo palazzo dalle collusioni con la Camorra, vogliamo liberare insieme a tutti i napoletani onesti che sono la stragrande maggioranza anche la città dall'estese e da questi criminali e vigliacchi che da non napoletani sparano ad altri napoletani che cercano insieme a noi di riscattare la città. Penso a tutto ciò che accade con l'estese, con gli attentati recenti, non passeranno perché Napoli ha scelto, ha scelto la strada della legalità, della giustizia, della cultura e della rinascita attraverso le sue bellezze materiali ed umane.